La Rassegna Mare Nord-Est ha conferito oggi il tridente d'oro allo speleo sub-inglese Rick Stanton, il subacqueo protagonista dell'eroico salvataggio da cui è stato tratto il film di Ron Howard 13 vite e che ha dunque ricevuto il premio stamattina dalle mani del presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacque, Paolo Ferraro. Sono molto onorato di essere qui e di aver ricevuto questo premio. A parte poi tutta la gioia che c'è stata dopo, insomma con le tv eccetera eccetera, è molto contento perché l'Accademia hanno capito le difficoltà che hanno dovuto superare per portare a termine questo salvataggio che lui non vuole, si dica miracoloso, ma del miracoloso. Stanton è considerato uno dei più abili sommozzatori al mondo ricevendo premi e riconoscimenti di altissimo livello. La Rassegna Mare Nord-Est è partita oggi. Oggi per tutta la durata della manifestazione sarà possibile visitare la collettiva d'arte dove l'espressività creativa proposta dai vari artisti, provenienti dall'Italia ma non solo, è declinata a pittura, scultura, installazione, video e fotografia, trasferirà al visitatore la sensazione di inderogabile necessità di preservare il mare dall'aggressione dell'uomo e la presenza di una caratura internazionale come quella di Stanton non può far altro che accrescere blasoni e curiosità per determinate tematiche. Sì, ero molto fortunato, ero interessato nel mondo di dive nel mondo di guardare Jacques Cousteau. Il contento di questa cosa ovviamente è che porterà acqua al mulino della subacquea. Dice che l'Italia è piena di scuole, di posti dove si può praticare la subacquea ed ovviamente cose di questo genere portano alla ribalta mondiale e quindi può avvicinare più gente in un futuro, più gente alla subacquea e questo è un auspicio che lui si fa. Puoi essere sorprendente.